ANSA, Firenze, 19-8, la Corte d'Appello di Firenze, ha confermato nella sostanza la sentenza di primo grado con cui furono condannati tre carabinieri per omicidio colposo nella vicenda della morte di Riccardo Magherini, il 40-n deceduto in strada a Firenze durante un controllo la notte del 3 marzo 2014 Condannati quindi i carabinieri Vincenzo Corni a otto mesi, Stefano Castellano e Agostino della Porta a sette mesi ciascuno. Restano assolte le due volontarie della Croce Rossa, Claudia Amatta e Giannetta Mitrea